quando è che è stato travolto dalla passione per la chitarra? come? dicevo quando è che è stato travolto dalla passione per la chitarra? non mi ricordo io ricordo soltanto un gran rumore ho capito che era successo qualcosa di grave di importante che avrebbe cambiato la mia vita poi dopo mi sono ritrovato così ma lì per lì non ho capito cosa fosse successo senta secondo lei esiste veramente il grand hotel de guitars o si tratta semplicemente di una pura fantasticheria? le potrei rispondere con una domanda anzi due? ma come vuole secondo lei esistono babbo natale e la libertà? beh non so forse nel momento in cui ci crediamo è come se esistessero non lo so facciamo una cosa lei venga il 26 di marzo all'auditorium le fornaci di terra nuova bracciolini oppure se le viene meglio il 15 aprirà il caffè letterario di roma in viossienze 95 venga capirà molte cose al riguardo che bello ma ci sarà anche babbo natale? ma che babbo natale stavamo parlando di grand hotel de guitars il libro scritto da massimo bigi giro saladini e simone fraschini con gli autografi musicali dei più grandi chitarristi italiani c'è Luigi Schiavone super pippo gabellini simone vignini luca colombo chicco gussoni ci sono tutti i chitarristi più forti giacomo castellano ci sono tutti lì alessandro magna lasche c'è grand hotel de guitars perfetto allora all'auditorium le fornaci di terra nuova bracciolini il 26 marzo oppure a roma il caffè letterario in via ostienze 95 il 15 aprile grand hotel de guitars grand hotel de guitars